Questa era la disposizione tattica della Juventus di Antonio Conte che come sapete si è dimesso pochi giorni fa appunto dalla guida dei bianconi dei campioni in carica ovvero sia il classico 3-5-2 che qualcuno diceva sarebbe potuto diventare appunto un 4-3-3 con l'acquista ad esempio di Turbe che sarebbe dovuto andare almeno secondo le indiscrizioni giornalistiche a fare l'ala di destra e poi appunto una sorta di altri cambiamenti si parlava ad esempio di Evra come terzino sinistro, di Llorente o Morata come punta centrale Tevez avrebbe potuto fare l'esterno di sinistra o chiaramente anche eventualmente la punta in alternativa ai due spagnoli Questa dovrebbe essere invece la nuova Juventus targata Massimiliano Allegri che appunto ha sostituito Antonio Conte alla guida della formazione bianconera Vedete subito la differenza più grande che si può notare qui a centrocampo dove si passa da un centrocampo diciamo a 5 nel caso del 3-5-2 o a 3 nel caso del 4-3-3 a un centrocampo a 4 schierato a diamante come potete vedere con un mediano, due mezze ali e un trequartista In difesa quindi quasi sicuramente si passerà a una difesa 4 che è diciamo un po' uno dei marchi di fabbrica sicuramente di Allegri che vede poi due punti in avanti che potrebbero essere Tevez a far coppia con Llorente o Morata almeno per quello che è in questo momento ovviamente la rosa della Juventus in attesa di eventuali trattative di mercato però ripeto il cuore pulsante della rivoluzione tra virgolette tattica che porterà e dovrà portare Massimiliano Allegri si concentrerà probabilmente qui a centrocampo ovviamente non abbiamo la sicurezza che Allegri deciderà di schierarsi con questo modulo ma è sicuramente la cosa più probabile Siamo solo a metà luglio quindi è difficile sapere come evolverà il mercato della Juventus e quali saranno i giocatori che potranno comporre questo eventuale scacchiere tattico per cui per fare un'analisi tattica approfondita bisognerà aspettare di sapere ad esempio chi saranno davvero i due centrali chi giocherà davanti alla difesa che io credo possa essere Pirlo chi sarà il trequartista che diventa un ruolo fondamentale e uno snodo di mercato importantissimo in questo momento per la Juventus visto che fino allo scorso anno non era previsto questo ruolo appunto in campo cosa possiamo dire però? Innanzitutto appunto la difesa varierà cambierà in maniera importante perché si diceva Conte per tre anni fondamentalmente ha giocato con la difesa a tre si passerà con una difesa a due e quindi servono dei terzini che siano terzini puri L'Iksteiner sicuramente lo è a sinistra potrebbe arrivare e avrà un acquisto che sicuramente può fare discutere vista l'età del giocatore ma che da un punto di vista tattico sarà fondamentale perché come dicevo servono due terzini di ruolo appunto per implementare una difesa a quattro dopodiché a centro campo è il nucleo della squadra sicuramente il nucleo delle squadre di Massimiliano Allegri davanti alla difesa io appunto dicevo credo verrà schierato Andrea Pirlo perché è un giocatore di qualità immensa lo stesso mister ha parlato di qualche incomprensione ai tempi del Milan ma ha detto anche che la storia diciamo ha dimostrato il fatto che Andrea Pirlo sia un giocatore che debba giocare in questa posizione a questo punto fondamentali saranno le mezze ali che oggi potrebbero essere Vidal e Pogba ma non è detto che restino fondamentali perché si è già visto come pur non dando un gran gioco al Milan e questo va detto perché è una critica da fare importante da muovere a Massimiliano Allegri dicevo pur non dando un gran gioco al Milan sicuramente trequartiste centro e mezze ali hanno dato un certo contributo di gol negli anni appunto rossoneri trequartista che diventa secondo me poi lo snodo fondamentale per quello che riguarda il calciomercato della Juventus appunto per il semplice motivo che in questo momento non esiste un vero trequartista nella rosa certo si potrebbe usare Pogba o Marchiso ma sarebbero giocatori adattati e rispetto a quello che sarà il nome del trequartista si potrà capire anche molto di quello che sarà il gioco della Juventus sicuramente un trequartista puro potrebbe diciamo far propendere la squadra a un certo tipo di movimenti un trequartista capace invece di svariare anche sugli esterni potrebbe portare di conseguenza anche diciamo a dei movimenti diversi con i compagni di squadra in questi giorni si è fatto ad esempio il nome di Shakiri che è un giocatore a cui piace molto agire sull'esterno e quindi ovvio che in certe situazioni di gioco si potrebbe vedere magari uno Shakiri allargarsi a destra un Tevez allargarsi a sinistra e l'eventuale Llorento Morata a fare da punta centrale per ricomporre così quel 4-3-3 che sarebbe dovuto essere secondo le indiscrezioni giornalistiche il modulo quest'anno di Antonio Conte nel contempo invece qualora arrivasse un giocatore alla Isco che io personalmente non credo arriverà in Italia nonostante i rumors di mercato Isco appunto è un trequartista diciamo più classico che ama agire centralmente dietro le punte per innestare poi con i propri filtranti o le proprie giocate appunto i due compagni che gli giocano davanti e per cui in questo senso potrebbe essere davvero un 4-4-2 con centrocampo a diamanti più puro rispetto che non una sorta di 4-3-3 come dicevo fondamentali saranno i nomi che comporranno questo scacchiere tattico diciamo dando per assodato il fatto che vrà possa arrivare a essere ufficializzato nelle prossime ore e qualora la Juventus decidesse di non cedere più nessuno riuscisse a non cedere più nessuno e soprattutto a non cedere all'avance per Vidal e Pogba ci sarebbero dal mio punto di vista due operazioni di mercato da fare una acquistare un centrale difensivo che possa fare a coppia con i vari chiellini Barzali e Bonucci a seconda di chi sceglierà Massimiliano Allegri per dare più solidità a questo reparto secondo ma in realtà appunto più importante è decidere quale tipo di giocatore occuperà questa posizione perché dal giocatore che sarà disegnato a occupare appunto la posizione di trequartista rispetto al modulo scelto da Massimiliano Allegri dipenderanno un sacco di cose tutti i movimenti offensivi probabilmente diciamo che saranno impostati a seconda di quello che sarà il trequartista che andrà da gira alle spalle degli eventuali Tevez sicuramente e Morato Llorente